Sono stati avviati questa mattina presso il Museo e Parco del Volo di Volandia i percorsi ITS e IFTS organizzati rispettivamente dall'Istituto Tecnico Superiore Lombardo Mobilità Sostenibile e dall'Istituto Maxwell di Milano. 59 gli istituti tecnici superiori che daranno avvio alle attività formative quest'anno in tutta Italia, 7 in Regione Lombardia, recependo la recente riforma ministeriale che ha portato alla costituzione di fondazioni di partecipazione. Queste hanno lo scopo di erogare corsi post-diploma in grado di assicurare al mondo produttivo la formazione di profili tecnici altamente specializzati. L'ITS Lombardo Mobilità Sostenibile organizza due percorsi formativi in grado di formare due figure distinte, il Tecnico Superiore per la Manutenzione degli Aeromobili, tre annualità, e il Tecnico Superiore di Linea di Montaggio per le Costruzioni Aeronautiche, due annualità. A fronte di 157 persone pre-iscritte da tutta Italia 88 studenti diplomati hanno partecipato alla fase di selezione e di questi in 50 hanno potuto accedere all'attività di formazione in avvio. I percorsi IFTS sono invece organizzati dall'Istituto Maxwell di Milano in qualità di ente capofila e prevedono la formazione su una sola annualità di personale indirizzato nel percorso di Tecnico Superiore della Logistica Integrata. Alla selezione hanno partecipato 30 studenti e 22 sono gli allievi ammessi al corso. Nessuno ci credeva, vi ricordate gli sberleffi che ho ricevuto. Adesso guardate questi ragazzi motivatissimi, una selezione 157 iscrizioni, 50 ammessi ai corsi. Un futuro, un futuro reale e concreto. Questi ragazzi hanno tutto il posto di lavoro e non da pochi soldi, con uno stipendio adeguato alla loro caratteristica. Pensate, 300.000 posti vacanti, oggi vacanti nel sistema aeronautico di manutenzione. Sentite manutentori? Ecco, in questi giorni abbiamo avuto la richiesta da Lufthansa e Lufthansa Technique Germania di 100 ragazzi diplomati. non ce li abbiamo perché partono adesso. Parte il sesto anno adesso e il settimo anno. E quindi un'attività forte, un futuro concreto che l'amministrazione comunale di Somma ha perseguito. Personalmente possiamo fare questa parentesi? Noi ci ricordiamo bene, come ha detto lei, perché l'abbiamo intervistato prima quando ne parlavamo, era sotto la campagna elettorale delle ultime elezioni amministrative. È un'altra idea fantasiosa di Guido Colombo? Le idee fantasiose trovano concretezza. Certe volte bisogna volare alto e le cose si concretizzano. Altre volte ciò non avviene. Non sempre è possibile.